Mai? Fammi una ricerca delle reti? Quale preferisci? Vai con la prima? Ok, prima Provo a connettere La va in basso Connesso con questa WPA Proviamo con la prossima? No, un'altra Provo a connettere Provando le WPA Connesso con questa WPA Proviamo l'ultima Magari è fortuna il principiante Questa non andava Ma questa non va Impossibile connettere Perché sono quelle nuove mi sa Infostrada? Infostrada wifi Proviamo a connettere Presa È una web, va bene, non vale Grande Crotti, continua con Linux Buon divertimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti